Con Walter Trentini e Luciana Pellegrini sono i vincitori del trofeo Monte dei Paschi, l'evento clou della stagione del Bic Tennis Mariemma. Luciana, com'è stata questa finale, com'è stato questo torneo? È stato un torneo molto divertente, abbiamo avuto occasione di giocare con tante persone perché stanno in torno giallo le coppie sono state sempre sorteggiate, quindi è stato molto divertente. Poi ho avuto la fortuna di trovare in finale il grande Walter Trentini e quindi è stata bellissima, una bella finale e sono contenta. Insomma, per me è un evento eccezionale arrivare prima classificata. Walter Trentini ancora una volta vincitore di un torneo di Bic Tennis, Walter, cosa altro dire? Dove vuoi arrivare? No, arrivare più della finale non si può andare, quindi sono contentissimo di confermarmi. Ho avuto la fortuna di pescare compagni veramente balli e Luciana in finale è stata la cirigiana sulla torta perché è stata impeccabile, non ha sbagliato niente e ci ha consentito di portare a termine una partita non semplice ma con un ottimo risultato, quindi contentissimo soprattutto per aver vinto insieme a Luciana che è anche un amico.